Certo invitando, Johan Schmidt alla batteria, drummer. Janos Nagy, keyboards, tastiere. Il grandissimo Dominic Di Piazza al basso. Signore e signori, bocca gambale alla voce. Uno dei più grandi in assoluto della storia, Frank Gambale. Allora, buonasera a tutti. Che bello, bella serata, già bello. Meglio si parla in italiano? Ok. Allora, facciamo un bel viaggio della musica mia stasera. Un po' di tutto. Allora, cominciamo. Un po' di... Grazie a tutti. 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 . a tutti. . a tutti. a tutti. . a tutti. 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 su a tutti. 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 a tutti.